Oggi invece la prima parte è stata molto veloce, ho cercato di andare e di entrare nella fuga giusta, però non ho colto l'attimo ideale e poi la seconda parte di gara ho sofferto come un cane. Allora, ieri purtroppo sono caduto dopo 30 km di gara, banalmente, ho picchiato il gomito e ho un bel buchetto e mi sono stati messi due punti di sutura per chiudere il buco. Sì, non capisco, scusami, è andato a fare un circuito.